Buona parte di loro sono stati i miei allievi per un anno in una scuola di Bologna che si chiama Bottega Finzioni e quindi io la consideravo una cosa doverosa fare un'esperienza pratica, soprattutto far fare a loro un'esperienza pratica. Perché in questo laboratorio si studiava, si lavorava intorno al raccontare. Al raccontare nella letteratura, nel cinema, nella televisione, nel documentario. Una specie di scuola olden fatta a Bologna. Esatto. Meglio, peggio, non si sa. Sicuramente meno costosa. Meno costosa. Ci sono andato stamattina 10.000 euro l'anno, mamma mia. Meno costosa. Porca miseria. Però è bellissima, quindi magari li merita a tutti. Dunque mi interessa molto sia il processo creativo, sia commentare tante cose, sia proseguire quella conversazione che avete anche un po' interrotto, sia farvi anche, prendervi anche un po' in giro voi altri, perché se posso permettervi, eravate un po' spaventati, ma tanto. Cioè, chi era che per dire la parola prostituta, poi facevi la prostituta. Eh? Come poi, can you tell it again? Qual era di loro? Adesso non mi ricordo. Uno, mi pare, uno che non c'è, forse. È possibile che ci sia ma anche uno di voi. Andrea. Andrea. Perché poi tu che fai la... E poi lei, capito, dove sei? Impallata dall'operatore di macchina. Laura. Che voleva per forza farne ammettere che un po' si sentiva in colpa. E dillo, dillo che ti senti in colpa, dillo che non è la verità. Che so. E la Yara, che è un personaggio giovane che se Flaubert la incontra, questa lì ci fa capitoli e capitoli. È una roba... No, neanche, capito? Mo passamo, bella bella... Ma no. Ci fa proprio... Parla di Sego nel... Bull de Swift nel 2014. Un romanzo bellissimo, ma non è un insulto. Però c'è una cortigiana, qualcuno ha presente? Mi giustifichi con la madame Yara. Invece, l'avete costretta sulle difensive a dire che, insomma, il mio lavoro è scritto in effetti un po' soffro. Sì, in effetti un po' mi sento in colpa. La poverina non ha mai potuto dire la verità. Cioè che si diverte forse anche ogni tanto come una mamma. Questo è poco ma sicuro. Sarei così opulenta, così sorridente. Ho detto opulenta. Sono tornata a Torino. Però sei stata brava con loro, sei stata una vera psicoterapeuta con loro. Ma loro con me, loro con me. E a un certo punto, infatti, sono partiti, sono partiti da questa diffidenza e questo anche un po', no, perché forse ti devi sentire in colpa, perché quello non è amore vero, no? Nel tuo figlio. Pensa al tuo figlio. Fino a che, alla fine, piano piano, ho visto che c'è una danza finale tra di voi, dove c'è stato come finalmente un lasciarsi andare, anche un trasmettersi una curiosità reciproca, un affetto, no? Quindi, no, complimenti per la vitalità di questo racconto, di questo gruppetto che ha messo insieme sapientemente la sagace collega romana Labate Vilma. Vuoi raccontarci un pochino il processo creativo, la bottega, come nasce, come avete proseguito, come avete concluso, come hai girato, come avete montato? Sì, intanto, dopo un anno di lezioni, fra virgolette, teoriche, senza nessuna presunzione, era troppo importante fare un lavoro, no? Quasi vero, piccolo, piccolo, ma quasi vero. E quindi ci ho pensato a lungo, abbiamo provato a scrivere delle cose, abbiamo provato a elaborare un soggetto, poi un trattamento. Qualche volta ci siamo incartati, qualche altra ci sembrava che andasse bene, ma insomma, questa conclusione mi sembrava assolutamente doverosa. E come le gite scolastiche a fine d'anno, insomma, bisognava farla. Ma quanto di quello che abbiamo assistito è catturato, rubato, spiato e quanto è anche un po' costruito, visto che si tratta, per l'appunto, di un seminario sul storytelling, sulla narrativa azione? E allora, è costruita soltanto la messa in scena, la scelta del luogo e delle piccole provocazioni che prima di quelle ben più importanti e più furbe e più intelligenti delle mie, Iana lanciava, io lanciavo. Quindi, in realtà, diciamo che è scaturito tutto dall'intenzione di parlare di corpo e di danaro attraverso un processo molto rudimentale e non troppo assolutamente sofisticato, cioè il corpo come elemento del quale abbiamo dominio o no e il danaro. Si parla solo di danaro in questi anni. Io penso che si parla pochissimo di futuro perché c'è come un elemento di rassegnazione, no? Che vuoi parlare del futuro tanto quale sarà? Boh, non c'è. E quindi, attraverso il corpo e il danaro, io un po' pensavo che loro potessero raccontare. E credo che tuttavia non è ancora rivelato qual è stato il motivo con cui ci sei imbattuta in questo essere qui alla mia sinistra. Ma ho consultato una signora... Di Cairi, una sua allieva del corso di storytelling? No, magari. Ho tante storie ma non sono telling. Siamo in fascia protetta in questo momento. Ho consultato una signora esperta che si chiama Pia Cobre e che fa la sindacalista delle prostitute e quindi... L'ho avalta voce. Ma è questa cosa che lo diciamo meglio? Non lo so. Prostitute. Di te con noi. Prostitute. Prostitute, si può dire. Si può dire, si può dire, sì. E chi ti ha detto? C'è una molto intelligente, simpatica? Eh sì. Ganza. Eh sì. C'è una molto brava. Che ti può raccontare delle cose. E quindi, cosa è successo? L'hai incontrata? Ho conversato a lungo Pia Cobre io, nel senso che telefonate, lettere, mail, insomma, perché poi io avevo delle gran paure e dei gran così blocchi perché non pensavo che sarebbe stato semplice per me e anche per loro. Mi sentivo anche un po' irresponsabile, ecco, perché sono grandi, adulti vaccinati. Quando ho incontrato lei veramente mi è passata la paura, francamente. Come è avvenuto questo incontro? Facciamo raccontare a lei come è avvenuto l'incontro. Sì. Allora, ci siamo incontrate a casa mia, a casa nostra, e io avevo paura, io avevo errore, ho detto, una regista vuole fare un documentario con me. Beh, di che? E invece abbiamo parlato, c'era anche Sara, e io ero molto molto emozionata, moltissimo. E veramente l'impressione è stata bellissima, anche perché mi ricorda molto mia mamma, Vilma, quindi è stato un amore a prima vista. Rassicurante per me, e con questo tema grandioso che mi si proponeva, ho ributtato la mia vita di nuovo sul grande schermo. Prima l'avevo buttata sul piccolo internet, ma un po' più porno. E lei mi ha ributtato con questa cosa molto 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 delicata rispetto a ciò che facevo. L'incontro con lei è stato un amore a prima vista. Ho detto subito sì, lo faccio. Appena ho chiuso la porta ho detto che... E non c'è stata una cospicua offerta in denaro? Io ho ricevuto due miliardi di euro, voglio dirlo, dichiarate a tutti. Io tutti. I ragazzi ne hanno presi altrettanti, comunque. Tiratevi indietro, grazie. Quindi forse è stato il gesto economicamente più svantaggioso Della mia vita, io di solito. Paolo. Paolo, dammi i soldi. Eh, capito, interessa. Vediamo, cerchiamo di fare, avere un destino commerciale a questo film, per tirar fuori delle risorse compensative. Ecco, e quindi che si è successo? Avete detto adesso si va tutti a Sassomarconi. C'è un motivo per cui siamo andati a Iano, che sta vicino Sassomarconi, oltre che per... che è un bellissimo posto. Ed è tipico delle ambientazioni dei film di Pupiavati. Tanto per... non so perché, non so perché ma è così. Ci ha girato tipo 6-7 film. Eh sì. Vabbè, però a Iano c'era una casa di appuntamenti, aperta nei primi anni Sessanta, naturalmente clandestina, e chiusa negli anni Ottanta. Io non ne conosco altre di case di appuntamenti, quindi quello è stato un po' decisivo, nel senso che anche le stanze sono rimaste uguali. Poiché durante le riprese ho dormito là, vi assicuro che la prima notte era un po' così, insomma. Ti piaceva? Ho controllato le lenzuola. No, perché si nasconde dentro di noi tutti un'anima molto così, piccolo borghese. Però il posto era bello. E quella casa lì è rimasta così. Quindi per questo, Iano, altrimenti avremmo potuto girare a Bologna. Ho capito. Me lo chiedevi, ti dicevo a Livorno, in Venezia c'è un casino famoso, è rimasto intatto, un pochino più mal ridotto, però credo che i nuovi ritardati potevano crollare se li aprivi. Quindi forse avete fatto bene andare in quel luogo uovatiano. Oltretutto vi siete anche appartati, eravate in una condizione quasi così appunto da Accademia degli Agiati, da spiriti eletti che si ritrovano in un parnaso sulle colline emiliane e bolognese. Da quelle parti, peraltro, ci sono anche gli Elfi. Se uno esplora verso Sambuco, Pistoiese, ci sono le vere comunità di alternativi estremi. Quindi si tocca tanti tremi, il sesso. Come li hai trovati questi ragazzi? Molto impacciati, molto represi? No, dolcissimi. Meravigliosi, rispettosi. Come ho detto in varie interviste, ho imparato molto. Molto. Ho avuto molto rispetto, questa è la prima cosa. Non invadenti, anche le domande più difficili erano fatte col fiocchettino, insomma. Poi dopo la scena del ballo, lo ripeterò sempre. Si è, è successo qualcosa. Non osiamo chiedere, ma... È stata una gangbang incredibile. Una gangbang, ecco. Incredibile. La dolcezza è sui finita. Non avete filmato nulla. Sarebbe stato un gesto veramente... Cioè, una cineasta che viene da come te, che viene dai movimenti di liberazione sessuale, cosa... No. Cioè, lì in teatro l'avrebbe fatto. E invece domande sconvenienti o veramente curiosità a telecamere spente da parte dei tuoi... Eh, beh. Sì, tantissime. Le domande, diciamo, più belle sono quelle che purtroppo le telecamere erano spente. Eravamo sul pullman di ritorno. Sono irriferibili? No, no, assolutamente. Posso dirlo pubblicamente, ma non potrò dire... Magari chi? Però è stato... Ho fatto scorrere la mia rubrica di lavoro e loro hanno riso per un po'. Più leggere i messaggi che dicevano. Pubblica perché c'erano... Che cosa? C'erano proprio l'appellatino. Politici, celebrità, cosa? O perché c'erano sovrannomi, cosa? Pisellone, cosa? No, c'è scritto mai più, piuttosto... Ah, ok, ho capito. Piuttosto che gran col... Piuttosto che ce l'ho piccolo, piuttosto che ci credo solo io, piuttosto non accettare non paga, oppure si addormenta. Non vado oltre perché... Ah, questo è molto divertente. Così è il riferimento, sai. Oppure la cifra. Ci metti la cifra vicino, rispondi, vedi, 500. Pronto! Carissimo! E insomma, è riuscita in un momento in cui... Mirma è riuscita a tirare fuori anche questa sua cosa qua, è contrapelata allo stesso del suo divertimento, anche se all'inizio ha dovuto un po' giustificarsi, giocare al ruolo della povera cosetta nei miserabili. è toccata a me, sai, il destino, Bramo, Balzac, le cose. E invece poi c'è anche questo elemento di libertà e di sfrontatezza, perché forse è il caso anche di dirla, sta cosa, no? Ma certo. Forse è la cosa più bella, no? Quella che si riferisce, cioè l'elemento di gioco che lei mette in atto e che ha colto un po' tutti di sorpresa, ma che è un elemento assolutamente autentico, è mai finito, è quello che... e però purtroppo qualche volta, o forse già è successo, ma insomma forse succederà, sarà un elemento di rimprovero, perché avrei dovuto trovare e raccontare un personaggio, appunto, la schiava, il dolore, eccetera, e questa piccola trasgressione che ci siamo concessi, quella appunto di interloquire con lei, perché è assolutamente un personaggio e una donna consapevole, questo può darci che solleciterà delle piccole polemiche, delle piccole alzate di sopracciglio. Beh, magari, perché vuol dire che vengano fuori dall'ombra i repressi, i sessuofobi, non ne mancano, insomma, certo se organizzi una proiezione privata per giovanardi può darsi che... per dirne uno, insomma... Fa parte del mio pubblico. Ecco, ma mi sembrano sane le eventuali, insomma, reazioni, cioè, anzi, permettetevi di fare ancora più scandalo di così, secondo me, e anzi, per questo volevo fare ancora più scandalo di così e dire, guarda, che Iana all'inizio si è dovuta un po' difendere questi ragazzi. Iana o Giana? Non abbiamo... Non lo vuoi. Oh my God. Ma... Mi verrebbe da dire, ma adesso, alla fine di questo percorso, se loro ti fanno... Scusami, ti sto... Se ti fanno la stessa domanda che ti hanno fatta all'inizio di questo racconto, cioè, ma perché... Perché tu gli hai risposto, sai, il metalmeccanico ci mette un mese a guadagnare quello che guadagno in due ore. Però, a modo, hai detto, sai, e avevo necessità... Non risponderesti anche in una maniera forse ulteriormente diversa? Può darsi... Avresti anche la... Credo, credo di no. Sinceramente. È sempre quella ragione. Beh, sì, magari... Sì, la base è quella. Però, lo direi... Cioè, andavo in fabbrica. Cioè, invece di dire andavo in fabbrica, dovevo sfamare i miei figli. Andavo in fabbrica, dovevo sfamare i miei figli. Secondo te? Cioè, magari... Capito? È il tono. Ah, esatto. Perfettamente, perché è tutta una questione di tono, i perfetti. E mi posso permettere allora di farla io questa domanda. Sì. Ma, il tuo mestiere, tu a volte magari dici, te mi sono sentita, o così, ma ti sei anche divertita o no? Sì. Ecco. Quanto? Quanto? No, no, no. Quanto ti sei divertita? Alle volte mi sono proprio divertita perché ero con amiche, quindi, queste famose game bang. Divertita è ridere, più l'altro, perché vedere il sesso dalla nostra parte è un po' come stare il regista da questa parte. E noi sappiamo già quello che succede, no? Sappiamo già tutto. Quindi diceva, facciamo la gara, ho questo, adesso lo cronometriamo, tre, due, a lei. No, perché c'è un sentimento pietistico, anche specie a sinistra, che è quello di considerare la schiava oggetto del desiderio maschile e della sua cosa, che c'è anche quello, per carità, è un fenomeno sociale che riguarda, per esempio, tante pregature fragili che vengono magari prese, rapite, portate, tenute prigioniere, bruciate, gli danno fuoco, ci sono donne soggette a schiavismo contemporaneo, sono piene la salaria a Roma e le strade di periferia di molte città, però ci sono anche altri destini che, insomma, chi ha frequentato la letteratura ne ha, ci sono anche le nanà, ci sono le cortigiane, ci sono le cocotte, ci sono quelle che nello stabilire, nell'esercitare quella specie di potere che viene dato dalla seduzione verso il cliente ci prova anche un elemento di gusto e di piacere. Ma certo. Di cubane. E non è detto che per forza l'uomo o la donna debba essere necessariamente bella, anzi, anzi, non è detto che deve per forza avere fisic di role piuttosto che... No, il gioco è proprio anche guarda come mi diverto a tenerti in pugno. No, guarda come mi diverto perché lui mi fa divertire. Ah, vedi, perfetto. Questo addirittura mi hai detto una cosa in più che io non l'avevo previsto. Può succedere, Geremia, spardò, ti amo. Perfetto, no, mi hai detto una cosa e io invece immaginavo più nel gioco del potere, del dominio di chi si trova davanti un cliente, metti che arriva che lui decide come quella volta che lui batti cuore e la forza è che di chi invece ha sotto controllo una situazione nella quale ecco. Però può succedere anche di perdere il controllo e cosa succede. Vedi, questo invece non l'avevo messo in preventivo. Abbiamo scoperto un'ulteriore cosa, volevo sapere, alla fine di questo percorso avete girato, avete montato, ma quei disgraziati lì, anche lei sta scrivendo, stanno scrivendo, state, cosa è successo, cosa è successo, cosa vi ha dato, cosa è venuto fuori, cosa avete partorito? Io loro. Tutti chi vuole. Loro, loro. Loro. Sentiamo loro, dai. Microfono volante, corri, precipitati come Superman. A chi? C'è una prima fila qui di esseri, di esseri umani che hanno, sì dai, sai, le famose schermare. Perfetto. Il microfono a caso, proprio, precipitati in una situazione sconosciuta, capito, rispondiamo a, come dire, esigenze dirette, no? Cioè, quindi, ci siamo trovati in una situazione... Non ho capito. La domanda era, cosa avete partorito? Ok, ci siamo, questi ci hanno precipitati in una situazione a noi sconosciuta e noi ci siamo, come dire, comportati in maniera naturale. Cioè, non abbiamo potuto inserire mediazioni. Ci siamo trovati in maniera, a reagire in maniera naturale. Ho capito, qui stai raccontando il tuo status di attore, di attore, personale. Di attore di un film. Che non è d'attore. No, no, invece di... Che non è d'attore. Invece, alla fine, il narra... Hai, se non sbaglio, ti sei messo in testa di scrivere, no? Così, quello ce l'avevo prima, dopo l'ho perso. Ah, l'hai perduto? L'hai perduto, Dopo questo seminario hai detto cosa c'è che c'è. Quando ho preso coscienza di quello che, di cos'era il mondo della scrittura, ho perso assolutamente. Ho capito, ecco, hai concepito qualcosa che è una decisione di lasciar perdere. Ho capito, era meglio lasciar perdere. È una cosa anche saggia. Posso far passare il microfono alla moralista che diceva che lei sentiti in colpa, soffri, tuo figlio. No, Diana può dire che sono stata tutto tranne che una moralista. Ma in quella domanda lì si ha voglia. Ma infatti poi... Io ti ho guardato, c'è, c'è, è rifilmata, ci sono le prove. Vabbè, ma infatti rientra in quello che io penso che poi il mezzo un po' devia, anche se poi c'è una regista come Vilma che riesce a fare delle grandi cose, però io di fondo penso che anche fare un documentario riesce a deviare quello che vorresti dire. E infatti poi ho avuto la prova perché Yana, per come ci siamo conosciute io e lei, penso che abbiamo avuto un'esperienza tutt'altro che poteva dare prova che io ero quindi quella era una maschera che stavi indossando per fare la politica di correct no, 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 e il fatto che quando stai facendo un discorso e quando poi estrapoli dei pezzi e preso così la parte che facevo era da moralista e mi devia però nel discorso intero del film ci stava quello però il mio pensiero non è da moralista presumo però hai detto una cosa giusta cioè che in fondo quando sei tra le mani di un narratore in questo caso c'era una signora che ti attivava le file alla fine ti sei sentita dentro un racconto altrui e hai fatto un personaggio e... finisce così e succede non sarebbe mica la prima volta no, assolutamente no, ma aspettavamo poi di vedere quello di vedere il risultato perché sapevamo che poi tirando le fila sarebbe venuto fuori qualcos'altro rispetto a quello che vivevamo quindi questo esperimento alla fine incuriosiva poi tutti perché quello che vivevamo è molto diverso rispetto a quello che abbiamo visto e sono state è stato vivere tre esperienze quello che ci aspettavamo quello che abbiamo vissuto e quello che abbiamo visto alla fine e comunque eravamo sempre noi e questo secondo me è una magia che non è da poco bene accanto a te c'è io metterei tra parentesi il teatro valle perché sennò apriamo una discussione che non finisce più perché sul proposito pensieri controversi diciamo che un po' mi dispiace com'è andato a finire perché ci poteva finire meglio secondo me mentre invece ti chiedo quindi il lieto fine è un provino con Renato De Maria? oddio ma perché no? è un bellissimo regista un po' valoroso quella che è una persona simpatica peraltro è intelligente è bolognese il lieto fine se c'è un lieto fine nel senso siete innamorati un pochino? boh era finto? era messa in scena? è importante dire la verità? assolutamente o lasciamo questo finale aperto no in realtà questa esperienza ritornando alla domanda che hai fatto prima così svicolo il lieto fine che è sempre che effettivamente in quel momento lì in cui mi sono trovata a fare questi questi discorsi stavo proprio riflettendo sul mio lavoro su tutte le questioni come poi si è anche visto in maniera evidente con una certa frustrazione e quindi di fatto che è stato un po' un rilancio di questa cosa e dall'altro punto di vista è stato molto interessante ascoltare Iana perché in realtà ci sono molti aspetti in comune fra la società dello spettacolo e la società del sesso quindi in realtà le sex workers come le chiamano gli intellettuali le utilizzo là forse è tanto che non va più di moda però secondo me sugli ibook lo trovi gratis addirittura proprio perché è fuori catalogo c'è un bellissimo romanzo che si chiama Nanà che racconta di una cortigiana teatrante peraltro una specie di valle del parigino del 1870 e di come cosa proprio da combinare con i vari conti ricchi dell'epoca e la sei ancora al valle sei ancora occupante non c'è più il valle no appunto come si è successo è una lunga storia però abbiamo promesso di non entrare fondamentalmente siamo usciti quest'estate perché ci avevano detto che c'erano dei lavori improcrastinabili da portare avanti quindi abbiamo in un qualche modo per tutta una serie di ragioni deciso di uscire eccetera e ora appunto questi lavori non sono cominciati probabilmente riprenderemo parola presto però insomma sono ancora nel gruppo perché penso che sia stata un'occasione di ripensare la questione culturale appunto è una questione scottante ma c'era una bella energia i primi due o tre mesi diciamo appunto questa è quella cosa che mi viene detta spesso comunque sì in realtà appunto le questioni sono quelle cioè anche rispetto al cinema america il problema è proprio il cinema america è totalmente scusami un'altra cosa sì però appunto per dire che non c'è un'aspirazione di persone che si mettono sul palcoscenico ma c'è un progetto impeneditoriale si compra un cinema sì diciamo che la questione è quando i teatri vengono chiusi e i cinema vengono chiusi è quello il problema e come poi si può reagire in tante modalità quindi rispetto a questo appunto sono tutte possibilità anche qui proprio a due passi è stata occupata anche la cavallerizza che dici al cinema america la parola va alle vedi che proprio fanno per dire noi no così sì infatti sono due soluzioni possibili una diciamo ragiona più su un metodo di gestione e poi lo fa con una grande fatica e anche con dei fallimenti è come dire vedere l'aglio al Dracula però vabbè in realtà forse la cosa interessante che è successa quest'anno è che ho anche fatto un provino con Garrone che forse me l'ha detto Wilma che hai fatto un ruolo sì importante sì cioè importante nella misura in cui sono tutti attori hollywoodiani la pensano Cassel e Salmai esatto questo forse è il suo orso non dico niente e invece te provini io io in realtà abbiamo visto andare questo bal danzoso sì sì infatti mi sono vergognato ma guarda è stato tra l'altro sono contentissimo perché proprio da quelle parti a Bologna in quei giorni c'era una mostra su un poeta che a me non piace obiettivamente era D'Annunzio ecco che dato che ero vestito bene quindi si presupponeva che avessi una sorta di dendismo allora ecco che mi hanno filmato di fronte alla mostra di D'Annunzio e ho detto no porca miseria speriamo che non lo mettano in montaggio io detesto D'Annunzio non l'hanno fatto per fortuna perché sarebbe stato ancora peggio io che cammino bal danzoso con il faccione di D'Annunzio dietro comunque sì recitare ho iniziato sto facendo delle cose a Bologna delle piccole produzioni e poi ho scoperto pian piano che adesso sembra che sia proprio di pala in frasca ma è stato l'inizio di un percorso che mi ha portato anche a capire meglio passando anche attraverso la recitazione che la cosa che mi piace di più è proprio regia sono passato da tantissimi step partito con sceneggiatura che comunque continua a piacermi moltissimo ti sei affascinato di Vilma e hai detto vedi è lei che tira le fila è lei che racconta capisco perfettamente chi va sul set poi alla fine dice ma chi si diverte veramente lui è sì ma infatti è stata per me è stata proprio un'esperienza di osservazione molto bella oltre che la conoscenza con loro del gruppo che già conoscevo in più Iana che che effetto ah perché non l'avevano visto no che effetto vi ha fatto non l'avevano mai visto io l'ho trovato sarà anche l'esperienza personale essersi rivisti la prima volta che capitava e ho provato la strana sensazione di essere partecipe come lo ero nel momento in cui si girava e d'altro canto uno spettatore completamente assente nel senso assente rispetto alla mia presenza in scena quindi l'ho visto come uno spettatore uno spettatore punto perché assente no assente sì punto spettatore sì voi bolognesi siete so pochi semiologici si sente che Umberto Eco il suo fantasma si fa sentire e mi è piaciuto molto Vilma bene voglio sentire anche loro due questo è il tema a me ha colpito una cosa del documentario il fatto che vabbè io poi mi sono sottoposta consapevolmente a questo a questa cosa che andava molto contro la mia natura che è più nascosta nel senso io non mi faccio fotografare scrivo con uno pseudonimo quando sono uscite delle recensioni mi ha inchiesto la foto davo una fottina tipo foto tesera della prima elementare quindi è pazzesco perché ho percepito qualcosa che durante le riprese evidentemente era in conflitto con me e che mi era era sfuggito a me stessa proprio mi ha molto traumatizzato ma in senso positivo perché io stavo scrivendo un'autobiografia io ho compiuto 40 anni l'anno scorso e mi ero immersa nella autobiografia dei miei primi 40 anni e la stavo scrivendo in maniera in realtà piuttosto patinata nel senso sì mi dipingevo come una fondamentalmente a cui erano andate storite varie cose però in maniera sempre piuttosto cioè anche se uno si descrive come uno sfigato nei libri è sempre uno sfigato sexy non so come dire sempre e questa esperienza mi ha portato a cambiare radicalmente il tono dell'autobiografia e di questo infatti io sono contentissima perché lo sto riscrivendo quindi sono una seconda stesura e finalmente ci sono io nel senso ho deciso che basta che potevo finalmente cioè mi sono un pochino liberata anche della vergogna di me non so come dire che è anche stata quella di liberarsi attraverso la propria immagine hai provato l'attrazione per Iana? beh umanamente sì e anche sì 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 adesso però parla lui con due microfoni come diceva Flaubert che hai citato voglio morire cos'è Eringey quel quartiere? no no è Stanford Hill che è sopra Acne il quartiere degli ebrei ortodossi sì sì ma mi è piaciuto molto il film subito volevo morire lo dico che patacca proprio mi sono guardato e ho detto e invece poi non ti sei piaciuto te perché abbiamo questo rapporto con noi stessi no per niente però sei celebrato sei fichissimo no è stata posso dire sei più bello lì che dal vivo ti ringrazio no è stata un'esperienza bellissima non ti so dire in quanto scrittore o quasi scrittore se sia servita più di altre però è stato molto bello il non sapere dove si stava andando perché di solito quando scrivi tenti più o meno di avere un'idea e hai almeno la libertà di poterlo immaginare mentre in questo caso facevamo spesso delle cose sì in maniera naturale però non sapevamo né quello che ci stava prima né quello che ci sarebbe stato dopo quindi questo secondo me è stato un buon esercizio che poi ho provato a sfruttare nei miei vari fallimenti letterari successivi questo abbiamo partorito scrivo sempre un po' di tutto un po' di tutto storie sui tecnici di teatro soprattutto i tecnici di teatro che vengono celebrati e poi vengono mutilati rapiti affogati esatto che succede che succede adesso di questo materiale Vilma diciamo lo consideri compiuto questo percorso perché poi succede questo quando è capitato di avere degli allievi di una scuola come al centro sperimentale da Roma poi succede che non te ne liberi più per tutta la vita e che i loro destini ti riguardano ti interessano perché sono ecco sei come Geppetto che ha messo in moto il burattino io sono in contatto perenne con Sara per esempio che era la tutor della classe che ha scritto il film insieme a me insieme a Michele Cogo che non vedo non so dov'è aveva un treno ed è stata la mia assistente sul set preziosissima assolutamente indispensabile lei senza di lei tutta quella roba non so perché naturalmente aveva un rapporto con loro più profondo del mio anche se insomma io ho cercato di averlo un buon rapporto detto questo a parte la telefonata quotidiana che faccio a Sara non anche senza motivo ho anche un rapporto con Orso con cui ci studiamo ma ti è venuto voglia per esempio Yara ha raccontato delle storie che probabilmente sono delle che forse meriterebbero di essere raccontate forse sì oggi mi hanno detto questo mi hanno fatto questa domanda qualcuno me l'ha fatta mi ha detto ma invece una storia un film di finzione su di lei naturalmente forse il destino di un progetto così non può essere altro che scritto un loro probabilmente mi sono domandato se questo non poteva essere il preludio in forma di malloppo di appunti di una cosa da scrivere di finzione a questo punto narrativa su quello le notti di Yara che trovo in Toscana funziona sembra Chiara 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 ah vedi c'è anche lui non l'abbiamo menzionato Camillo Camillo ti ho cercato tutto il tempo io non te l'ho riservato ma non te l'ho riservato se non parla ma devo dire la mia comunque no vabbè è così ma veramente non ti ho chiesto proprio niente se tu che vuoi parlare eh lo so a parte che hai censurato la parte vedete anche questa voce hai censurato la parte dove Yana dice cioè tu fai la domanda no tra questi giorni come dire con chi hai legato di più e Yana dice Camillo io sono venuto qua ma ci hai fatto 300 km solo per dire questa cosa ci sono rimesso male sono rimesso molto male però Vilma ha tenuto la parte nella quale Yara dice che tu sei un grande amante ma veramente Qdope io l'ho vista ah quella ah sì no però la fa proprio la dichiarazione beh lì ti ha detto una cosa che io fossi in te potrei campare tranquillo per altri alcuni anni vabbè allora questo già mi mette almeno fino all'andropausa sei tranquillo va bene questo già mi mette un po' di rassicurazione no però io ho una riflessione diciamo così mi è venuto pure alla luce di quello che dicevano gli altri ragazzi e vabbè a parte che in realtà ho ripreso e non ho ripreso a CUR però diciamo che sì ho ripreso a CUR in parte e no in realtà io poi quando sono ritornato a casa dopo il quarto giorno di ripresa sono andato a cena da un amico mio e lui mi vede questo volto tutto triste diceva ma che hai fatto e se no Marco mi sento tutto mi sento male perché ho conosciuto questa ragazza questa signora no signora ragazza sono una signora no vabbè ragazza poi mi sei una ragazza perché comunque hai questa giovedibilità proprio da ragazza che mi ha cambiato io volevo iniziare a scrivere sketch diciamo così molto come dire pure leggeri e invece no iniziare a scrivere monologhi e il secondo lavoro l'ho intitolato mascare in menta che letto tutto dunfiato è mascheramento proprio pensando a questa esperienza qua più che come dire fare quello là che porto i volantini più che fare non lo so ciò la tavola oppure eccetera eccetera uno fa quello che si sente io da questa esperienza diciamo che ho voluto fare quello che mi sentivo di fare diciamo così quindi questa era la riflessione che volevo però mi è dispiaciuto che non ho sentito cioè mi sono attaccato a Camillo questa è una cosa che mi ha fatto dispiacere tu sei di San Giorgio a Cremano? non mi fai il confronto con Massimo Torrizi che me ne vado di dove sei? di Pompei un supersito e c'è l'accento simile no no non sono Massimo Torrizi sono Camillo a Pompei c'è una famosa pornostar Valentina Nappi una star internazionale scrive di filosofia dibatte dibatte nel con filosofi tu la conosci presente? avevo mio compagno con grande stimatore di porno io non la conosciamo ok no perché a proposito di corpo sesso quindi potrebbe essere il preludio per Vilma che racconta le notti di Yara che dite sono le 8 meno un quarto è stata una bellissima conversazione noi ringraziamo da morire i ragazzi ma soprattutto Vilma che ci ha portato questo e aspettiamo il prossimo eventualmente le notti di Yara è stato un po' grazie a tutti